Scuole chiuse per emergenza coronavirus fino al 3 aprile prossimo e difficilmente pare possibile che possano immediatamente riaprire. Il ministro dell'istruzione Azzolina non si è sbilanciato ieri su una data precisa, ma ha spiegato che si riapriranno solo quando l'emergenza sarà sotto controllo.Non può essere solo assegnato materiali didattici agli studenti o semplicemente limitarsi ad assegnare loro compiti, senza far precedere tutto questo da una spiegazione relativa ai contenuti o senza supplementi un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente. La didattica a distanza deve prevedere dei momenti di relazione tra docente e discenti ed è necessaria una valutazione costante dei compiti. A sottolinearlo è il ministero dell'istruzione Azzolina che ha inviato a tutte le scuole le prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza in cui chiedono anche agli insegnanti di cercare di evitare costi eccessivi di compiti, che comportino troppa permanenza davanti ai PC o che diventino un onere per le famiglie, impegnarsi in questi giorni nello smart working. Il di Castero evidenzia anche l'attenzione della didattica a distanza che ha il compito di mantenere viva la comunità di classe, di scuola e senso di appartenenza e lotta al rischio di isolamento e di demotivazione. Il documento del ministero di Viale Trastevere però non è affatto apprezzato ai maggiori sindacati della scuola, CGL, Cisol, Will, Snals e Gilda hanno chiesto che venga ritirato immediatamente. Affrontare una situazione di emergenza, commentare, non autorizzare a bypassare le relazioni sindacali ed assumere toni poco democratici. Grazie.